There's no place I'd rather be 5, 4, 3, 2, 1 Ehi a tutti ragazzi, siamo io Oggi è che ti stiamo qui per fare un vlog molto molto particolare Allora, in questo momento sono le 13.54 E tra poco dovrebbe arrivare il mio autista E voi mi state chiedendo, sì ma perché? No, in realtà manco posso chiedere perché avete letto il titolo quindi Comunque dovrei avere questo ragazzo per portarmi a Civita Vecchia Dove oggi ci sarà il mio primo evento Oh mio Dio, sono veramente molto molto in ansia Perché non so come sarà E ho paura Non paura, però sono contenta ma allo stesso tempo un po' di ansia Anche se ragazzi un po' di esperienza diciamo per le fiere l'ho fatta Però comunque vedere tutta quella gente che l'ha solo di squisiente per te Mette ansia davvero Ora dovremmo soltanto attendere l'arrivo di questo ragazzo Che dovrebbe arrivare qui a minuti E niente Viva e l'amo Sempre e comunque Ok ragazzoli siamo appena arrivati qua in ufficio Molto molto carino Ora dobbiamo aspettare tipo una mezz'oretta Poi scendiamo giù Vedremo tutto come è la situazione E niente Mamma tu vuoi qualcosa a dirci? Ah raga buongiorno Ci vediamo dopo Baci e abbracci E saluti E saluti Ciao E raga oggi mi sento molto alberico Perché ho i jeans strappati E scarpe così E ammaiite dell'avance Con un piota Perché ammai alberica di Giorgia Cosa c'era in quella monitor? No ma posso flipparla? No no sul vetro no Ma che sedia? Bamboni Ciliegie Ma da dove? Ma che Sì Io penso che questo sarà il più emozionante di tutti Sì perché Ciao Sivi Ciao Che belli i miei capelli super sistemati Ma come bella Raga ma quanto rido C'è tipo mentre salgo sul palco Così salgo sul scalino BOOM Ma secondo te li so capace A fare una cosa del genere Sì Raga io so capace A stare in uno scalino E poi beffe A best figura proprio Vero? Ragazzi sono due ragazze E poi vogliono salutare Ciao Ciao Ragazzi sto per andate via Quelle ragazze Che erano entrate qui nel backstage Perché hanno vinto il concorso Su facebook E ora adesso tocca uscire E andare proprio giù Da tutti quanti Allora Sivi Veniamo subito a noi Prima tappa Certo come c'è nella scaglia Civita vecchia Come ti senti? Vai Non ho niente da dire A parte che sono emozionatissima E' un'emozione grandissima Stare qui oggi Perché fino a due anni fa Io ero al posto loro Adesso vedermi su questo palco E' un'emozione enorme Applausi Allora ragazzi Perché esattamente Sivi come ha appena accennato Insomma Qualche tempo fa Era al posto vostro Quindi per lei Un coronamento di un sogno No? Finalmente ce l'hai fatta? Sì Questa parte? E adesso che ci sei riuscita? Adesso ce l'ho riuscita Sono fiera comunque Di aver usato Questi miei tre anni Così In questo modo Per arrivare in questo palco Che bello Che bello Il tuo prossimo obiettivo Qual è Sivi? Adesso che finalmente Ce l'hai fatta Stare qua Davanti a queste persone E soprattutto a dire Ciao a questo fa O meglio ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Nei ce l'ho fatta Prende l'abbracciallo Una per una Questo è poco ma sicuro Ragazzi Sivi mi vuole bene Fandogli sentire la voce Sì io Tutto bene La fidanzata Sì guarda La fidanzata Con un lama Che il mio Mi sa che adesso No No contano No Coggino Bravo Coggino E' arrivata E' arrivata E' arrivata Ok ragazzi Appena finito l'evento E' stata una cosa veramente Bella Mi sono divertita tantissimo Veramente Grazie a tutti quelli che sono venuti oggi E niente Vado un bacione Ragazzi mi si è anche scaricata la macchinetta Quindi continuerò Quindi finirò Diciamo il vlog con il telefono E nulla Adesso torniamo At the home E niente Ci aspetta un bel po' di viaggio Ragazzuoli Sono appena tornata a casa Sono veramente Stanchissima Abbiamo fatto tipo due ore di macchina Però veramente Voglio ringraziarvi di cuore Perché ho passato Una Pasquetta Veramente molto molto bella In vostra compagnia Vorrei ringraziare anche Tutti quanti i genitori Che hanno accompagnato I propri figli Del giorno di Pasquetta A vedermi Detto questo Niente Adesso io mi diverto Con la mia bustona Di regali Che mi avete fatto A attaccare tutti quanti i cattolini E niente Sono super felice Veramente ragazzi Non potete capire Grazie a tutti Per essere venuti E rimanendo aggiornati Sulle prossime date E niente Vado un bacione a tutti Ciao Ciao Grazie ancora Ciao Tutto ciò L'abbiamo creato insieme E dobbiamo continuare A creare Questo Perché è Per questo Che io ho lavorato Per tre anni Ok Promise Bacione Che voglio il bene Ragazzi sicuramente Basta Ciao